Cari amici, adesso il manuale del buon candidato dice che dovrei spiegarvi i motivi per cui mi candido. Sarà che non mi sono mai piaciuti i manuali e soprattutto sarà perché dovrei spiegare innanzitutto a me stesso perché non farlo. La scelta di candidarmi alle elezioni regionali in questo 2018 è la naturale conseguenza degli ultimi vent'anni, vent'anni che ho vissuto intensamente in questo territorio, vent'anni di storie, di volti, di passione per la mia Brianza. Vent'anni di territorio, una parola magica di cui tanti si riempiranno la bocca in questi giorni di campagna elettorale. Io posso dire di aver vissuto il mio territorio nel borgo della mia Lazzate, ma soprattutto negli scorci della mia Brianza. Una Brianza che nonostante il gioco di Roma ancora pervicacemente continua a produrre instancabilmente e a trainare tutto il paese. Così come corre nelle magiche curve del nostro autodromo di Monza, che mai nessuno, tantomeno Roma, dovrà più permettersi di mettere in discussione. Io sono tutto questo, nel bene e per qualcuno anche nel male. Io sono il mio territorio ed è per questo che mi candido alle elezioni regionali del 2018, per portare le ragioni della mia gente, di chi lavora ogni giorno e pensa alla concretezza più che alle parole vuote della politica. Io voglio portare anche voi dove davvero si prendono decisioni che potranno incidere per il futuro della nostra Brianza, dei nostri figli e del nostro territorio. Sulla scheda verde per Fontana Presidente, vota Lega Nord e scrivi i monti.